bello a tutti ragazzi vi faremo un nuovo video sempre su brawl stars e dove come saprete come saprete tutto il mondo è riuscito un nuovo aggiornamento dove io giocevo 8 bit guardate 9163 coppe già mi sono scioppato una casa enorme poi questa tara la turchina e poi per cambiata mi sono scioppata il paio per rosa vediamo in casa se ci trovavo lì o non potevo scioppare un po' non so cosa si è spuntato potenziato ok ragazzi adesso faremo qualche partita soltanto una perché dopo devo andare a mangiare sentite che ha detto guardate quanto è forte guardate quanto è forte ora mi sa che la minchiamo questa non ho scritto solo che facciamo la minchiamo no ragazzi mi l'acca non ho ragazzi ragazzi mi l'acca non ho ragazzi non ho ragazzi non ho ragazzi non ho ragazzi questi due ragazzi guardate Ok, raga, ne sghiera Aia, raga Dai, no No, dai No, dai, raga Non ci credo Guarda Eravamo tutti 8 bit Ok, raga, più due Quindi facciamo l'ultima partita Stavolta vero Perché dopo dobbiamo andare a mangiare E ci vediamo Poi stasera Ora faremo due video al giorno Uno la mattina E uno la sera Che ne dite Ci diamo sto capito Non ci vediamo di prima Ok, raga, ci vediamo in un prossimo video E ciao